Con la pandemia il numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati. In maggio il numero di chi aveva un'occupazione è sceso a 22,77 milioni, mentre le pensioni sono cresciute a 22,78 milioni. E' quanto segnala la CGA di Mestre, precisando che tenendo conto del normale flusso in uscita del mercato del lavoro, per limiti d'età e per effetto di quota 100, da gennaio il numero delle pensioni è cresciuto di 220 mila unità. Il sorpasso è avvenuto in questi ultimi mesi. Dopo l'esposizione del Covid infatti sono diminuiti i lavoratori attivi, con più pensioni che impiegati, operai e autonomi. In futuro non sarà facile garantire la sostenibilità della spesa previdenziale, che ora supera i 293 miliardi di euro all'anno, il 16,6% del PIL. Il lockdown ha pulito l'aria. Fra marzo e aprile, con i trasporti ridotti all'essenziale e lo spegnimento del riscaldamento domestico, gli agenti inquinanti, gas e polveri sottili si sono ridotti moltissimo. A Roma il biossido di azote è calato del 59% a marzo e del 71% ad aprile, mentre a Milano il calo è stato inferiore, 29% a marzo e 43% ad aprile. I due mesi di blocco hanno permesso di comprendere l'importante impatto del traffico veicolare, in particolare quello privato, oltre alle emissioni di alcuni inquinanti. Quello che tutti si augurano è che sulla base di un'esperienza negativa come il Covid-19 si possa riflettere su come rendere l'aria delle nostre città più pulita. Scatta la guerra alla bilancia per gli italiani che sono ingrassati di almeno un paio di chili dopo due mesi trascorsi tra la cucina ed il salotto senza la possibilità di fare attività fisica a causa del lockdown. E quanto emerge da una stima di col diretti? C'è stato un vero e proprio boom del cosiddetto comfort food, ricco di calorie. Nel periodo compreso tra il 16 marzo ed il 12 aprile, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, c'è stato un aumento di zuccheri, grassi e carboidrati. Più 150% farine e semole, più 14% di pane, crackers e grissili, più 7% di pasta e gnocchi, più 38% di impasti base e pizze, più 13% di dolci, più 24% di primi piatti pronti. L'impatto sulle imprese della crisi provocata dall'emergenza coronavirus è stato di intensità e rapidità straordinarie, tanto da determinare, secondo l'Istat, seri rischi per la sopravvivenza nel corso dell'anno del 38,8% delle imprese italiane. Il pericolo di chiudere è più alto tra le micro imprese, 40,6% e le piccole, 33,5%, ma è significativo anche tra le medie, 22,4% e le grandi, 18,8%. Tra le attività più colpite dall'emergenza ci sono gli alberghi e i ristoranti.